guardate queste meravigliose fragole sono fantastiche buonissime poi hanno questo colore rosso vivo che è veramente guardate quanto sono grandi sono spettacolari buonissime vi lascio lo suo app qui sotto guardate queste fragole come sono favolose veramente non soltanto nell'aspetto ma anche nel gusto perché io già le ho assaggiate e vi devo dire che sono veramente fantastiche vi lascio lo swap up qui sotto così potete andare a dare un'occhiata al sito veramente fantastiche grazie a Petrol Fruit